Ciao a tutti, oggi a richiesta facciamo l'analisi di Technicolor. Prima di procedere con l'analisi dell'azienda ti ricordo come al solito che hai la possibilità di chiedere in maniera totalmente gratuito un mio personalissimo parere su una qualsiasi azienda che vuoi che venga analizzata se condividi questo video e se metti un like. Dopo che l'hai condiviso potrai scrivermi direttamente nei commenti l'azienda su cui vuoi che ti dia un mio parere e se metti un like ovviamente anche alla pagina avrò modo di citarti per informarti una volta pronto. Tornando all'analisi, anzitutto brevissima descrizione di Technicolor è un'azienda francese che progetta e produce sistemi video ed immagini digitali se poi vuoi maggiori informazioni ne trovi quante ne vuoi su Google. Tornando all'analisi, grazie all'aiuto dei grafici possiamo renderci conto fin da subito che questa società non se la sta passando bene, basta guardare gli utili netti sul fatturato il rapporto debito utile, l'utile netto eccetera. Nonostante i fatturati siano in crescita di quasi il 27% in 4 anni tutte le altre voci sembrano peggiorare quindi utili netti sul fatturato che sai che per me sono molto importanti gli anni dove ha chiuso l'utile netto in positivo erano comunque molto bassi si aggiravano intorno al 4%. Per quanto riguarda i debiti sono cresciuti tutti e due sia il debito corrente sia il debito a lungo termine e inserendo il numero di azioni in circolazione possiamo notare come abbia un rapporto debito utile gli anni dove ha chiuso in positivo molto alto, intorno al 10%. Ciò significa che quando chiude l'anno in positivo questa società per ogni euro di utile crea 10 euro di debito. Direi quindi che c'è poco da dire, questa società non rispetta fin da subito i miei parametri, i miei standard quindi non avrebbe neanche tanto senso continuare ad analizzarla di conseguenza non mi sento di consigliare neanche un prezzo d'acquisto perché proprio io non l'acquisterei mai e poi mai. Ti ricordo che questa analisi è un'opinione mia, personale, spero che questo breve video ti sia piaciuto ti ricordo che se vuoi chiedermi che venga analizzata un'azienda devi prima condividere questo video e mettere un like mettendo il like alla pagina ti ricordo che posso citarti per quando il video sarà pronto dopodiché puoi scrivermi nei commenti l'azienda su cui vuoi che ti dia un mio parere Ti saluto e ti auguro tanti buoni investimenti. Ciao! Grazie